La costruzione del nuovo ospedale di Sulmona resta solo a parole, perché nei fatti mancano ancora quei passaggi essenziali affinché possano sbloccarsi le procedure. Si arriva a quest'analisi dopo le valutazioni fatte dal responsabile del Tribunale per i diritti del malato, Edoardo Facchini, in merito a quanto riferito gli dal primo cittadino Peppino Ranalli, che ha recentemente partecipato alla conferenza ristretta dei sindaci. Non si muove una foglia perché la ASL dovrebbe garantire le risorse per realizzare l'ingresso posteriore necessario per la costruzione del nuovo ospedale e quanto ha riferito il sindaco Ranalli ad Edoardo Facchini. Se non si apre la strada dietro l'ospedale il cantiere non si può aprire. Per aprire la strada dietro l'ospedale occorre capire, con i soldi della ASL che ancora non arrivano, se acquistare i terreni oppure procedere all'esproprio. Procedere all'esproprio significa che passeranno un minimo di due anni. Noi questa esperienza l'abbiamo già fatta. Non si spende un centesimo sulla nostra struttura ospedaliera, sottolinea Facchini, che evidenzia l'impegno che invece c'è stato ad inaugurare l'ospedale di comunità Tagliacozzo. Il responsabile del Tribunale del Malato per il rilancio della sanità del territorio immaginerebbe due ospedali di comunità a Popoli e Castellisangro ed il potenziamento del nosocomio sulmonese che invece è costretto a scontare i posti letto. Dei 165 che ci sono sulla carta, rileva Facchini, vanno sottratti i 20 della lungodegenza che non esiste più. Nella realtà ci sono 145 posti letto, poco lontani dalla soglia minima dei 120 per rimanere aperti. Questo benedetto ospedale non vede un chiodo rimesso e con l'aggravante che mentre a Tagliacozzo l'ospedale di comunità è partito, è stato inaugurato dal caro direttore generale ed è a un quarto d'ora da Avezzano. Questo non è un problema di campanilismo, è un problema proprio di necessità. Qui l'ospedale di Castellisangro non è più ospedale perché ha 40 posti letto, quindi sotto 120. Come sapete la legge prevede che non esista più l'ospedale e non è neanche un ospedale di comunità perché andrebbe attrezzato con la specialistica, la diagnostica eccetera. Popoli è un altro ospedale che sta chiudendo e a proposito di questo ci vorremmo rifare un po' quello che è il discorso che in questi mesi va in giro e cioè ripensiamo il territorio. Il territorio va ripensato anche e soprattutto sotto l'aspetto sanitario. Noi non siamo ancora intervenuti perché non vogliamo primogeniture, però 25 anni fa, 30 anni fa noi eravamo partiti con questo criterio, ospedale di Castellisangro, ospedale di Sulmona e ospedale di Popoli. Poi la cosa non andò in porto e adesso ci ritroviamo senza ospedale di Popoli, senza ospedale di Castellisangro, con un ospedale di Sulmona che fa acqua da tutte le parti. Facchini chiede un intervento immediato sotto l'aspetto finanziario per far diventare l'ospedale di Sulmona del territorio. Si è invece ridotto ad uno stato da quarto mondo, ha detto, riferendosi ai problemi di tutti i giorni, come le infiltrazioni d'acqua nella cappella che provocano allagamenti quando piove, il cibo cattivo e anche la rottura dei tubi di riscaldamento nella lavecchia. C'è un problema che riguarda soprattutto le ditte che hanno appaltato, che hanno vinto la gara d'appalto e che hanno subappaltato i lavori di manutenzione. I lavori di manutenzione sono un inseguimento continuo dei mille problemi che ci sono.